eh non lo prendo sto salendo sopra io sono entrati i soprai terzo piano preso ok sta a piazzare e uno è a fondo vico e uno è a fondo vico ok bomba piazzata qua sotto io uno è a fondo vico preso ma dove? bravo dai mi sei sembrato batman in questo istante quindi è batman è fatman ok